La pace è un seme che richiede cura, va innaffiato con l'esempio, con l'impegno, con la solidarietà. Record ascolti per la Donate Nazionale degli Alpini di Vicenza, 1.485.000 telespettatori complessivi per le emittenti del gruppo Media Nord-Est, 218.000 il totale degli ascolti in Friuli Venezia Giulia, dove sia TV12 che Tele4 hanno mandato in onda in diretta l'intera sfilata a partire dalle 7 del mattino e per tutta la giornata. Ecco il grafico dei dati certificati Auditel del nostro network, anche per i meno avvezzi alla materia i picchi parlano da soli, con momenti da record di ascolto per tutte le emittenti. In nero vedete TV12, in giallo Tele4 e in rosso Antenna3. Ma non c'è stata solo la domenica, è stata una tre giorni di programmazione, quella dedicata alle 100.000 penne nere che si sono date appuntamento nel Vicentino. Sei troupe sul posto a raccontare ogni sfaccettatura dell'evento, i momenti di celebrazione, quelli conviviali, i cori eppure quegli attimi di spirito alpino colti nella loro veracità. Dai collegamenti con tutti i telegiornali del gruppo, sino un sabato di vigilia in cui abbiamo già toccato il milione di telespettatori per le reti media nord-est. Una cronaca minuto dopo minuto, sezione dopo sezione, dal ricordo dei commilitoni di un tempo all'attualità operativa con le più avanzate tecnologie utilizzate nei contesti di montagna. Insomma, le nostre emittenti si sono dimostrate ancora una volta e indissolubilmente le TV degli Alpini. Un grazie, come sempre, ai tantissimi che hanno risposto presente davanti al piccolo schermo.